Ieri sera abbiamo terminato il processo di sbarco delle ultime 35 persone a bordo a seguito di una lunga valutazione dal punto di vista psicologico delle persone a bordo. Sono saliti a bordo psicologi, psichiatri e mediatori culturali che hanno intervistato e eseguito una valutazione di queste persone che si presentavano con un elevatissimo grado di stress psicofisico soprattutto a seguito della prima selezione. Era in corso da ieri uno sciopero della fame che si è presentato dopo alcuni giorni in cui loro hanno via via ridotto il loro introito alimentare e da ieri non si idratavano più per cui io ero estremamente preoccupata di questo e avevamo scritto una richiesta di aiuto, di soccorso perché le condizioni mediche stavano via via deteriorandosi. La prima selezione era stata difficilissima si era svolta durante la notte abbiamo speso con i medici che sono saliti a bordo numerose ore in cui hanno richiesto di valutare ogni singolo paziente mettendo in dubbio tutte le diagnosi che avevo effettuato hanno rivisitato i pazienti inizialmente selezionandone alcuni che sono stati sbarcati ad un certo punto la maggior parte sono rimasti a bordo ed è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono vergognata di aver fatto bene il mio lavoro perché la condizione di persone in buona salute è diventata sostanzialmente un problema cioè più erano sani meno scendevano ed è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono quasi domandata se la mia missione fosse sbagliata quindi è stato veramente molto molto complesso.